La d'Urso parla della frequentazione con il vincitore del GF15 e, nel frattempo, si prepara al ritorno in tv a settembre. L'estate è quasi finita e Barbara D'Urso è pronta a tornare sugli schermi di Canale 5 con i suoi programmi di successo, pomeriggio 5 e domenica live. Questa estate è stata l'insegna del lavoro per la regina dei programmi Mediaset che, durante questi caldi mesi estivi, ha rinunciato a parte delle vacanze per girare la nuova stagione dell'amatissima fiction La dottoressa Jo. La fiction andrà in onda sulla rete Ammiraglia Mediaset a gennaio 2018. Tra le altre cose, in questi giorni, intervistata da Panorama, la d'Urso ha parlato dei progetti professionali e ha svelato qualche dettaglio della sua vita sentimentale. La conduttrice è stata sempre al centro dei gossipi in questi ultimi mesi per la presunta relazione con Alberto Mezzetti, vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello. Barbarella ha di fatto ammesso la frequentazione con il giovane che l'ha corteggiata assiduamente sin dall'uscita dalla casa più spiata d'Italia. Barbara d'Urso si confida e rivela di essere corteggiata da Alberto Mezzetti. In una lunga intervista a Panorama, Barbara d'Urso ha parlato dei progetti lavorativi e della vita privata. In questi ultimi mesi, Carmelita è al centro dell'attenzione per la presunta relazione con il vincitore del GF 15 Alberto Mezzetti. Innegabile la passione che il Tarzan di Viterbo ha sempre dimostrato per la conduttrice di Domenica Live sin da quando è entrato nella casa più spiata d'Italia. Una volta uscito, l'ex Jeffino ha cominciato una corte serrata verso Carmelita che, rispondendo alla domanda del settimanale, ha ammesso la frequentazione con Alberto, rivelando di essere corteggiata. Questa cosa le dà una energia positiva e che la rende serena. D'altronde Alberto Mezzetti non ha mai nascosto la passione che nutre per Carmelita dichiarando qualche tempo fa di esserne addirittura innamorato. Estate di lavoro per Barbara D'Urso, pronta al ritorno a settembre su Canale 5. L'estate 2018 è stata all'insegna del lavoro per la regina dei programmi Mediaset, che è pronta a tornare su Canale 5 a settembre con pomeriggio 5 e domenica live. Novità di quest'anno sono le presenze fisse dell'ex Jeffino Aida Nizzare e della prorompente Francesca Cipriani nei contenitori pomeridiani della D'Urso. In attesa di rivedere Barbara D'Urso in video a settembre con i suoi programmi, attendiamo l'evolversi del corteggiamento di Alberto Mezzetti. In attesa di rivedere Barbara D'Urso in video a settembre con i suoi programmi.